Il principe Harry potrebbe ancora intervenire per la regina con il duca pronto a rinnovare il suo contratto di locazione su Frogmore Cottage, il duca di Sussex è uno dei quattro consiglieri di stato, che sono autorizzati a svolgere la maggior parte delle funzioni ufficiali della regina se non è in grado di farlo su base temporanea. Harry, che vive in California con Meghan Markle dopo aver lasciato i doveri reali ma è ancora cittadino britannico. Può continuare nel ruolo poiché si qualifica come domiciliato in Gran Bretagna a causa della sua ex casa a Windsor, il Telegraph riporta che Harry e Meghan hanno deciso di rinnovare il contratto di locazione di Frogmore Cottage che scade il 31 marzo. Un portavoce del duca ha detto al giornale, non sono previste modifiche all'attuale disposizione. Arriva quando Harry è coinvolto in una battaglia legale con il Ministero dell'Interno sulla protezione della polizia per i Sussex quando sono nel Regno Unito.